Buonasera amici di 8chan, un nuovo appuntamento con Offside Benevento. Il Benevento pareggia 2-2 tra le muramiche contro il Giuliano e getta al vento la possibilità di agganciare la capolista Juve Stabia, fermata a sua volta in casa sullo 0-0 dal Foggia. Peccato davvero perché è stata una partita ricca di colpi di scena. Il Benevento era andato subito in vantaggio con Marotta, ripreso nella seconda frazione di gioco da Ciufferri. Poi era stata brava la formazione di Andreoletti a riportarsi nuovamente in vantaggio grazie al gol di Nermin Karic agganciata alla fine sul 2-2 dal Giuliano col gol di Ovicac. Peccato davvero nel primo tempo da segnalare una traversa colpita da Masciangelo e due pali colpiti dal Giuliano. Una partita ricca di spunti che davvero a tratti è sembrato quasi una partita da categoria superiore perché si andava davvero a ritmi altissimi in merito al Giuliano che è stato capace di restare in gara fino alla fine e di portare a casa un punto importante per la salvezza. Resta l'amaro in bocca per il Benevento perché è vero che con questo pareggio la formazione di Andreoletti ha centrato il dodicesimo risultato utile di fila però per come si era messa la partita specie dopo il gol di Karic davvero si ha la sensazione di due punti persi. Ascolteremo la voce dei protagonisti dal vigorito con la nostra Sonia Lantella e chiaramente commenteremo in studio questo post Benevento Giuliano come sempre con Billi Nunzolillo a cui do il bentrovato. Ciao Billi. Ciao Pasquale e buonasera telespettatori. Hai la sensazione anche tu che stasera si possa parlare di due punti persi? Ma io direi che è andata anche bene perché il Benevento ha rischiato di perderla questa partita nel finale un Benevento davvero a ritmi alterni ha mostrato belle cose i primi 20 minuti ha giocato, ha pressato alto, ha messo in grossa difficoltà il Giuliano poi dopo praticamente si è spenta la lambadina e il Giuliano attorno al trentesimo c'è stata una parata miracolosa di pareari più due legni colpiti dagli attaccanti ospiti e quindi poi nel secondo tempo ha iniziato nuovamente all'arrembaggio cercando insomma di andare in rete però sempre a luce alterna cioè una squadra che oggi non ha autoequilibrio anche sul piano difensivo molte difficoltà per esempio Passina oggi non è stata all'altezza delle precedenti gare c'è stato il giovane autore del gol Ciuferri il 2004 che lo ha messo in grossa difficoltà e poi nel finale le due squadre si sono allungate il Benevento c'è da dire che la voleva vincere questa partita però ha rischiato di perderla e alla fine... anche nel finale con Berardocco ma poi guarda basta andare a vedere un po' i numeri per rendersi conto che alla fine il Giuliano ha meritato anzi ha fatto qualcosa in più del Benevento complessivamente perché 15 tiri totali contro 14 del Benevento di cui 6 nello specchio della porta contro i 4 del Benevento dimostrazione insomma di una leggera superiorità da parte della squadra ospite che ricordiamo è una squadra che quando c'è stato il cambio di allenatore ha dato una svolta ha beneficiato di questa cura Bertotto e quindi chiaramente veniva da due vittorie consecutive e oggi poteva addirittura spugnare il Vigorito ed è venuta questa sera al Vigorito per giocarsela andiamo a vedere i risultati di questa tredicesima giornata del girone C del campionato di Serie C che si è chiusa appunto la giornata con i due pareggi 2-2 tra Benevento e Giuliano e 0-0 tra Vestabbia e Foggia e Spugna il terreno della Virtus Francavilla della Casertana per 3-2 Casertana che continua a volare quarta in classifica Crotone e Monterosi 2-1 all'ultimo respiro la formazione pitagorica Turris Monopoli 0-1 continua a perdere la Turris Messina Latina 0-3 Cerignola Catania 1-0 continua a perdere invece il Catania Brindisi Avellino 0-4 con i lupi che hanno raggiunto in classifica nuovamente il Benevento Sorrento Taranto 1-0 vittoria importante e pesante per il Sorrento Picerno potenza 3-1 continua a volare anche il Picerno e abbiamo detto poi chiaramente Benevento e Giuliano 2-2 e Juve Stabia Foggia 0-0 questa è la classifica dopo 13 giornate comanda sempre la Juve Stabia a quota 28 a quota 26 troviamo la coppia formata da Avellino e Benevento a quota 23 Picerno e Casertana poi Latina, Crotone via via tutte le altre chiude la classifica il Monterosi Billi dando uno sguardo alla classifica resta l'amaro in bocca perché al 77 col gol di Caric il Benevento aveva agganciato la Juve Stabia a quota 28 sì, è una giornata che alla fine è a favore della squadra di Irpira perché chiaramente aggancia il Benevento al secondo posto e si porta due punti alla Juve Stabia il Benevento aveva l'occasione oggi vista che la squadra di Castellammare di Stabia ha impattato in casa col Foggia di poter raggiungere il primo posto ha sprecato questa occasione e poi c'è da segnalare il Picerno e la Casertana che sono due squadre che stanno inannellando una serie di risultati positivi il Picerno oggi ha strabattuto nel derby lucano il Potenza e la Casertana ieri ha un'altra ottima prova da parte della quinta vittoria di fila sì, quinta vittoria di fila 3-2 all'ultimo respiro doppietta del Sannito a Curcio che continua a segnare e tra l'altro adesso mi hai dato anche lo spunto ricordando di Carci voglio dire, voglio spendere una parola a favore di questo calciatore spesso criticato ma che nelle ultime due partite oggi è stato il protagonista assoluto di questa partita sicuramente il migliore in campo al di là del gran bel gol che ha fatto perché è uno che ci mette tanta grinta, tanta voglia e sta acquistando sicurezza in questo ruolo di incursore dove lui praticamente gioca sulla tre quarti ma se ci fai caso dà un grosso apporto in fase difensiva dando una mano ai centrocambisti è pronto a ripartire a reinserirsi certo, non è dotato di tecnica sopraffitta anche se ha fatto un gol però oggi ha fatto un gol importante veramente da giocatore di gran classe purtroppo è il suo alter ego sull'altra fascia devo dire Ciano che praticamente nel primo tempo è stato inesistente il Benevento in effetti è come se avesse giocato in dieci e quindi chiaramente anche in fase di copertura non dava quell'apporto dove i primi dieci minuti il Benevento chiaramente ha cominciato quando si è espresso al massimo sul piano della pressione offensiva il Giuliano è stato in grossa difficoltà ha rischiato davvero due o tre volte di andare sotto di prendere un'imbarcata nei primi minuti poi quando è venuta meno questa capacità di prestare alto e in questo c'è stato anche il fatto che Ciano non ha dato il suo apporto ai compagni e via via c'è stata un'occasione in cui poteva andarsene tranquillamente sulla destra ha presito allargarsi proprio perché si è reso conto che fisicamente non è in grado di affrontare nell'uno contro uno in velocità agli avversari ce ne andiamo per la prima volta stasera in pubblicità restate lì perché al rientro andremo live dal Ciro Vigorito per ascoltare la voce dei protagonisti in questo post Benevento Giuliano a tra poco il Benevento impatta 2-2 in casa contro il Giuliano getta all'Ortiche una favorevolissima occasione per agganciare in vetta la Juve Stabia fermata peraltro a sua volta è in casa tra le Muramica e dal Foggia per 0-0 prima della pubblicità Belli stavamo parlando di Nermin Karic un'arma davvero importante per Andreoletti bravo soprattutto nelle due fasi sia di possesso che di non possesso alla fine si è rivisto in campo a proposito di centrocampisti anche Andre Steglio si lo ha messo nel finale credo che sia anche per dare un segnale al calciatore perché come diceva Andreoletti in conferenza a Sampa ieri è un calciatore che si sta impegnando sta dando dei segnali nella fase di preparazione settimanale quindi è giusto che nel finale ci sia stata l'immissione in campo di un calciatore che comunque è dotato di una tecnica superiore per la categoria e a proposito di Karic di cui parlavi prima voglio sottolineare che alla fine ha preso anche un'ammunizione ingiusta devo dirti ti confesso tra i limiti maggiori di questa esperienza in serie C di quest'annata c'è quello degli arbitragi non ci piace parlare degli arbitragi però a volte vediamo cose ma non ha inciso voglio dire non sto dicendo questo perché magari non ha concesso di rigoro assolutamente è proprio nella gestione complessiva della gara degli errori marchiani nel primo tempo due episodi dubbi quantomeno pronti via un possibile fallo su Marotta ma anche il gol del Benevento poteva essere diciamo così macchiato da un possibile fallo ma quindi non voglio entrare nel merito di chi ha tratto maggiore vantaggio degli errori arbitrali voglio sottolineare il fatto che comunque anche sui calci da fermi nel primo tempo lui non è stato in grado di controllare di avere quell'autorità di rivolgersi ai calciatori per evitare quelle scene che abbiamo visto sembrava una gara di lotta libera nell'area di rigore insomma voglio dire chiaramente è insufficiente la sua prestazione andiamo al Vigorito dove per noi come sempre c'è la nostra Sonia Lantella buonasera e ben trovata Sonia c'è la sensazione di aver gettato al vento un'occasione importante soprattutto perché nel primo tempo complice la super parata di Paleari due legni che avevano tenuto a galla il Benevento il Benevento avrebbe potuto portarla in porto la partita e conquistare i tre punti soprattutto perché al 77 a poco più di dieci minuti dall'inizio della dalla fine perdono della partita aveva ritrovato nuovamente il vantaggio con Karic nel finale addirittura invece voi per l'imprecisione dei Berardotto ma soprattutto anche per la parata di Paleari il Benevento ha rischiato addirittura di perderla vengo da te sì innanzitutto buonasera a voi e ai nostri telespettatori sicuramente è un pareggio che non fa bene al Benevento che per ben due volte si era trovato in vantaggio la possibilità appunto di una vittoria casalinga che avrebbe permesso alla strega di raggiungere la Juve Stabia come dicevi tu fermata in casa dal Foggia sicuramente ci sono state delle incertezze la difesa ha traballato parecchio incertezze anche a centrocampo dove tali agazzi non hanno brillato ma nemmeno i cambi questa volta hanno aiutato Benedetti è entrato male lo stesso Bolzius non ha dato quello che sappiamo può dare al Benevento tant'è che il secondo gol nasce proprio perché lui perde un pallone velenoso ma anche in quell'occasione una squadra troppo sbilanciata nessuno che va a fare pressing i difensori che indietreggiano e consentono comunque al giocatore del Giuliano di poter andare in porta quindi sicuramente dei limiti dei limiti sulla fase difensiva Passine evidentemente quel giallo ha pesato come una spada di Damocle perché non è riuscito a dare quella sicurezza che ha sempre dato magari l'assenza di Berra ha pesato in quelli che possono essere gli equilibri però ribadisco non mi è piaciuto nemmeno il centrocampo secondo me i due migliori in campo sicuramente Caric applauso per lui perché ha dato tutto quello che poteva sono d'accordo con Billy sulla munizione davvero ingiusta sono d'accordo con Billy sull'arbitraggio decisamente pessimo perché comunque ha condizionato però va detto che comunque qualcosa diciamo un'involuzione sicuramente esce stata però abbiamo già pronto Bertotto per cui vi restituisco momentaneamente la linea per dargli il tempo di microfonarlo perfetto veniamo tra poco da te con il mister Valerio Bertotto chiaramente Billy si faceva riferimento alla munizione ingiusta per Caric hai notato una cosa ogni qual volta si battevano i calci d'angolo l'arbitro si portava una cosa un po' inusuale si portava all'altezza e alla banderina per andare a controllare dove fosse posizionato il pallone dava la sensazione di voler essere sempre sul pezzo e vicino all'azione però spesso e volentieri da una parte ricordiamo e dall'altra non è che abbia convinto ma se posso dare una definizione sembrava uno sbarbatello insomma in campo si vede insomma la giovane età l'inesperienza e chiaramente cercava di coprire magari anche questi sono dei segnali sul piano psicologico che ti danno anche l'idea della insicurezza perché quando un arbitro diventa così anche sui calci d'angoli che andava a controllare che il pallone fosse posizionato sulla linea ti dà l'idea l'arbitro che fa questo vuol dire che è un arbitro che cerca di darsi una autorevolezza attraverso questi gesti e quindi chiaramente insomma voglio dire va preso per quello che abbiamo visto insomma ritorno ritorno al Ciro Vigorito dove in compagnia della nostra Sonia Lantella c'è l'allenatore del Giuliano mister Valerio Bertotto a voi Sì grazie Pasquale ci ha raggiunto come vi dicevo prima Bertotto un pareggio importante per il Giuliano due volte svantaggio insomma riuscire a conquistare un punto qui al Vigorito sicuramente dà anche un po' continuità all'ultima vittoria Le vittorie sono due quindi me le tengo con grande piacere sono molto contento della prestazione dei ragazzi sono un po' non tanto contento del fatto che sicuramente per la prestazione fatta per gli sviluppi che abbiamo dato al nostro gioco ritengo che la vittoria forse era la situazione più giusta quindi questo è un rammarico che ho glielo ho detto ai ragazzi gli ho fatto i complimenti perché giocare contro una formazione sicuramente di primo ordine è difficile ma i ragazzi ormai sono mentalizzati forte è il segnale che hanno dato a loro stessi di continuità come giustamente diceva lei è un segnale importante però dobbiamo essere più bravi e più cinici quando è ora di chiudere le partite perché di occasione ne abbiamo avute tante anche stasera così come nelle altre partite quindi è un dato su cui migliorare continuiamo a lavorare non ci fermiamo ma va bene così ecco parlavi proprio di due vittorie un pareggio qui al vigorito qual è il segreto di questo Giuliano ecco qual è stata la tua cura no nessuna cura si tratta di di lavorare duro di dare dei concetti di di dare tutto quello che si ha in termini professionali ma tutto questo si racchiude nella disponibilità dei ragazzi nel momento in cui riesci ad avere con loro quell'empatia quel feeling e essere credibile a 360 gradi la squadra ti segue la squadra è pronta a lottare la squadra è pronta a giocare questo per me è sicuramente un segnale molto importante che mi rende orgoglioso ma sono orgoglioso di loro proprio perché sono riusciti a metabolizzare un modo di fare la loro professione che non è il vivacchiare tanto per cercare di proprio voler alzare il livello voler dare un segnale di presenza all'interno del campionato perché conosco il loro valore non solo tecnico ma morale quindi pretendo da loro tanto e loro devo dire che sotto questo aspetto stanno rispondendo molto bene studio ben trovato mister complimenti per la sua gestione una squadra completamente ritrovata lei in carriera è stata un esperto difensore però anche stasera abbiamo visto la capacità della sua squadra di trasformare subito l'azione da difensiva in offensiva è una squadra che lascia giocare molto gli avversari ma che è brava subito a ripartire in contropiede e a sfruttare le ripartenze è un dato importante che testimonio come lei abbia una mentalità offensiva da allenatore sì molto molto deve prevedere comunque sicuramente un un aspetto diciamo di equilibrio che diventa fondamentale non mi piace tanto l'idea di dover lasciare gli altri giocare a calcio perché ho un approccio totalmente differente però ci sono anche gli avversari a volte e ci sono anche i momenti all'interno della partita che ti devono ti costringono in qualche maniera magari a dover essere ordinati e essere pronti a contrabbattere alla loro forza al loro impatto noi sotto questo aspetto siamo da tanto tempo ormai molto bravi a reggere l'urto però come dicevo prima nel momento in cui riesci a passare il momento di difficoltà che all'interno di una gara ci può essere e dopo devi essere cinico e assolutamente spietato ovviamente sportivamente parlando ma devi essere in grado di chiudere le partite quando ti si creano le occasioni Billi Nuzzolini Buonasera mister 12 punti in 8 partite dal suo arrivo insomma il Giuliano ha cambiato passo le volevo chiedere per un allenatore che subentra a campionato in corso qual è la cosa più difficile entrare nella testa dei giocatori oppure apportare i correttivi tattici per migliorare la resa del rendimento dei calciatori mi è capitato tantissime volte di entrare in corso e quindi dover inserirmi all'interno di un contesto di ragazzi che poi di volta in volta è differente l'uno dall'altro sicuramente quando subentri è perché le cose non stanno andando bene ovviamente e quindi c'è da fare un grande lavoro di testa psicologico importante e poi magari trovando l'opportunità di poter magari cambiare qualcosa all'interno dell'ordine del progetto tecnico che inizialmente era diverso grazie alla disponibilità e grazie appunto alla volontà di lavorare a un certo ritmo a un certo livello le cose poi possono andare bene quindi ecco in questo caso la disponibilità dei ragazzi è stata totale dal primo al secondo i frutti del lavoro si vedono però abbiamo ampi margini di miglioramento come dicevo prima la prossima con l'Avellino si un'altra bella sfida un'altra partita importante che giochiamo con grande piacere con grande forza con grande determinazione adesso recuperiamo bene le energie e cerchiamo di affrontarla così come va affrontata augurandomi sempre di volta in volta di riuscire a migliorare sempre quel qualcosa in più che serve a dare consapevolezza a dare certezze e magari tre punti perfetto grazie in bocca al lupo grazie giudiano si ma anche il coraggio di mettere dentro un ragazzo come Schuferro un 2004 che oggi poi oltre alla rete insomma è stato bravo fatto un gol pazzesco ma ha creato tante difficoltà sul piano difensivo al Benevento quindi credo che sia un mix ma soprattutto quando entri in corso l'hai detto una cosa importante dipende da devi entrare nella testa dei calcedori ma dipende anche dalla diciamo così dalla disponibilità totale che danno i calcedori per uscire fuori della situazione critica e lui lì ha trovato insomma un ambiente che probabilmente l'ha seguito sin dal primo istante in attesa di Androletti Billy oggi due gol incassati no dalla strega sì è andato insolito sì il Benevento in questa prima parte del campionato si è basato soprattutto sulla forza della difesa è vero che oggi mancava Berra ci sono state varie difficoltà da parte della difesa e chiaramente al di là dei due gol subiti c'è da dire che ci sono stati due legni colpiti dal Giuliano e poi le parate di non dimenticiamo le parate di Paleari insomma anche una decisiva nel primo tempo ritorno nuovamente al Ciro Vigorito stavolta in compagnia di Sonia Lantella c'è il mister del Benevento Matteo Andreoletti a voi Sonia eh sì ha sentito anche parte della vostra disamina sicuramente un pareggio che forse fa male perché per ben due volte in vantaggio poteva anche arrivare la vittoria e perché non raggiungere la Juve Stabia sì al di là del discorso di Juve Stabia che è chiaro che può essere gratificante in questo momento il dispiacere c'è perché è una partita che in quel momento pochi minuti alla fine abbiamo in cassaforte buttare due punti in questo in questo modo dispiace tutto sommato però è una partita complicata e lo sapevo l'avversario era di qualità non si può sottovalutare nessuno non possiamo pensare di giocare senza equilibrio e quindi quando poi ti sbilanci il rischio è di spaccarsi in due cosa che nel finale abbiamo fatto un po' troppo e quindi obiettivamente dispiace sicuramente per l'episodio nel finale è un pareggio però che dobbiamo tenerci stretti perché viene da tratti soprattutto nel minuti iniziali della partita una prestazione di qualità abbiamo fatto una buona produzione offensiva è chiaro che rispetto alle ultime partite abbiamo concesso uno d'accordo sentendo da studio un po' troppo un po' troppo per una squadra importante ma questo arriviamo al solito discorso dell'equilibrio bisogna avere equilibrio in campo e mettere tanti giocatori offensivi a volte rischia poi di compromettere questo aspetto parlavi di equilibrio centrocampo un po' meno questa sera e anche la difesa ha traballato parecchio forse quel giallo ha pesato troppo sulla testa di Pastina sì io credo che sia più una questione di collettivo obiettivamente ci allungavamo spesso quando abbiamo iniziato ad andare troppo in verticale figlio un po' anche dell'atteggiamento dell'avversario il rischio è di spaccarsi in due e si spacchi in due poi è vero che attacchi in cinque ma rischi di difendere in cinque a campo aperto contro una squadra che sapevamo che aveva delle qualità soprattutto contro un esterno avevano giocatori svelti e rapidi che potevano per caratteristiche metterci in difficoltà l'hanno fatto è vero che hanno fatto due euro gol perché due gol mi pregevole fattura dalla distanza però obiettivamente sono d'accordo che per quanto riguarda l'aspetto difensivo non siamo stati brillanti come noi altre volte non credo sia una questione di assenze visto che sentivo anche questo aspetto sicuramente Berra sta facendo un campionato importante però chi lo sostituisce sono giocatori di altrettanto valore ripeto secondo me è una questione di stare ordinati di saper leggere meglio la partita cosa che oggi a tratti non siamo stati molto bravi a fare studio Buonasera e ben trovato mister in ogni caso dodicesimo risultato utile di fila il Benevento che ha conosciuto il segno amaro della sconfitta solo all'esordio a Torre del Greco lei che è uno davvero maniacale soprattutto in fase difensiva Bolsus che perde quel pallone la difesa che arretra è vero si era all'ottantasettesimo si era andati davvero a mille all'ora per tutta la partita è mancato il classico atteggiamento della ferocia nella riconquista del possesso palla in quel caso sbaglio sì credo sia più una questione di voler vincere la partita in quel momento c'è lo spirito da parte di miei ragazzi in quel momento di provare a fare il 3-1 visto tra quattro giocatori ripartire da una parte mi fa piacere perché c'è la voglia di sprintare di provare a vincere chiudere la partita in quel momento è chiaro che ci vuole un pochino più di esperienza perché poi rischi di compromettere una partita che secondo me in quel momento era tutto sommato anche esserci un po' abbassati in controllo fa parte della crescita di questa squadra sicuramente l'episodio sfortunato nato un'altra volta da un grande gol dalla distanza potiamo sicuramente accorciare prima però ripeto mi tengo stretto l'atteggiamento di chi vuole chiudere la partita così come siamo bravi a correre in avanti dobbiamo sprintare a 300 lorali indietro perché poi partite come queste secondo me è giusto portarle a casa e dobbiamo portarle a casa Buonasera mister credo che diciamo così il succo di quello che è stato l'atteggiamento del Benevento l'errore principale sia stato quello che nei primi 20 minuti quando avete attaccato alti cioè avete pressato alte quindi avete attaccato uomo su uomo i portatori di palla avversari il Benevento ha creato tante occasioni praticamente il Giuliano non si è visto in quei 20 minuti ma purtroppo il Benevento allora non ha capitalizzato questa evidente superiorità e poi nel secondo tempo devo dire che oggi i cambi non hanno sortito effetto non è che abbiano migliorato la situazione a differenza di tante altre volte non so se lei è d'accordo su questa analisi di Massima sì credo che il primo tempo sia stato davvero un primo tempo a due facce più che dal nostro atteggiamento secondo me quello che è cambiato è stato l'atteggiamento nel Giuliano nei primi minuti stava basso si abbassava e ci permetteva di giocare secondo me hanno fatto 20 minuti di altissimo livello sia dal punto di vista della qualità della manovra che dal punto di vista della produzione offensiva davvero ho visto una squadra giocare bene una volta subito ancora hanno fatto una scelta diversa sono venuti a prenderci altissimi e a quel punto siamo stati meno bravi a leggere la pressione perché poi quando vengono a prenderti così alti di avere la lucidità di leggere la partita che in quel momento è cambiata e andare un pochino più in verticale cosa che in chiusura di primo tempo non abbiamo fatto molto bene il secondo tempo è chiaro che poi diventa una partita meno tattica una volta dato in vantaggio ho provato a tenere equilibrio nella squadra inserendo giocatori di struttura fisica cercando di mantenere equilibrio poi prendi gol in ripartenza da una palla riconquistata ti dispiace però obiettivamente penso che che altre volte magari chi è entrato è stato determinante Bolzio ha avuto un paio di volte l'occasione per chiuderla non siamo stati lucidi sotto porta però sinceramente non credo che chi è entrato abbia fatto meno bene di chi c'era in campo Sonia ultimo per te sicuramente Caric migliore in campo e proprio Caric va a sottolineare la nota negativa dell'arbitraggio perché effettivamente ha fatto discutere parecchio soprattutto all'inizio dove effettivamente per il Benevento anche sfruttare un calcio d'angolo diventava veramente assurdo e poi quel giallo insomma inopportuno lo definirei a Caric Parlo per i ragazzi parlo per me parlo per la mia squadra dobbiamo toglierci dalla testa questi aspetti perché secondo me se vogliamo essere una squadra che raggiunge traguardi importanti non dobbiamo attaccarci all'arbitro oggi la partita l'abbiamo pareggiata l'abbiamo assimata in vantaggio per meriti nostri l'abbiamo gestita bene abbiamo avuto l'opportunità per chiuderla non l'abbiamo fatto e secondo me una squadra che è una partita come questa si attacca all'arbitraggio secondo me è una squadra debole io non voglio non avere una squadra debole voglio allenare una squadra forte e allena una squadra forte quindi se l'arbitro ha sbagliato vuol dire che ne abbiamo sbagliato più di lui non mi piace ragionare in questo modo e penso che anche da parte dei ragazzi questi sono aspetti che non ci devono non ci devono non devono appartenerci quindi da parte mia domani mattina si riparte si lavora si guarda cosa si può fare meglio perché da lì si cresce pensare che abbiamo pareggiato per l'arbitro mi sembra veramente svilente ti sei pentito col senno di poi di non aver inserito un difensore in più è una valutazione che stavamo facendo Terranova stava entrando nei minuti finali anche per poter difendere è chiaro che poi sicuramente è una valutazione che era in corso di fare stavamo facendo un momento all'altro poi c'è la paura di abbassarsi troppo sono tutte valutazioni col senno di poi è chiaro che poteva essere una soluzione importante non l'abbiamo utilizzata e quindi come altre volte mi sono presi i complimenti accetto questa volta le critiche perché fa assolutamente parte del mio mestiere prossima sfida Monopoli lo dico ogni conferenza stampa di presentazione non c'è neanche una partita a sottovalutare lo dicono i risultati quotidiani di ogni settimana e quindi sarà un'altra battaglia sarà un'altra partita complicata contro un'altra squadra che gioca a calcio e bene come se lo fa il Giuliano e quindi dovremmo essere un'altra volta per vincere non ci basterà fare il nostro ma dovremmo essere più bravi dell'avversario grazie in bocca al lupo grazie buon lavoro ringraziamo Andreoletti a te Pasquale grazie grazie a mister Matteo Andreoletti i cambi non hanno sortito l'effetto sperato e anche quel rammarico finale lo leggo così nelle parole del mister avevo quasi optato per l'ingresso di Terranova perché io parlavo proprio di ferocia Billi nel riconquistare il pallone Bolsius che va troppo morbido non si attacca l'avversario poi Ovicic attenzione dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare fa un gran gol assolutamente perché Palearri non può far nulla fa davvero un gran bel gol come l'aveva fatto Ciufferri però l'aggressività e la feroce è mancato in quel caso sì ma anche nel primo tempo tu parlavi del gol di Ciufferri in quel caso là Pastin ha lasciato tutto il tempo al suo diretto avversario di girarsi e di piazzare la palla quindi non lo ha peraltro sul suo piede migliore esatto non lo ha pressato bene sì sicuramente insomma oggi ci sono stati questi aspetti che sono stato per certi versi un passo indietro rispetto a quanto di buono aveva fatto il Benevento nelle ultime gare ha giocato ripeto a sprazzi in dei momenti si accendeva la luce in altri momenti sembrava una squadra quasi fragile dava la sensazione di fragilità in fase difensiva lo abbiamo definito il migliore in campo un gol e un assist per lui che però non sono avvalsi la vittoria Nermin Karic in compagnia della nostra Sonia Lantella vengo da voi eh sì ci ha raggiunto Karic tra i protagonisti in positivo complimenti per il gol ma soprattutto per la prestazione grazie mille grazie mille sicuramente siamo delusi perché non abbiamo raggiunto la vittoria però io vedo il bicchiere mezzo pieno che mezzo vuoto come ho detto e l'ho sempre detto il campionato è un maratona non è un sprint dobbiamo pensare partita a partita cercare subito di reagire da questo pareggio perché abbiamo delle partite difficili davanti però dobbiamo migliorare in alcune cose però sono convinto che in allenamento faremo di tutto per rimediare questo c'è anche un video che sta girando su facebook l'arbitraggio effettivamente insomma soprattutto all'inizio avete fatto molta molta fatica nel senso che c'erano questi falli da parte degli avversari non vi veniva fischiato nulla anche ai tuoi danni e poi alla fine quel giallo ma di sicuro sono stati due o tre situazioni in area di rigore che secondo me sembrava sembrava rigore due o tre trattenute che erano un po' esagerate però non voglio stare qua a parlare della prestazione dell'arbitro voglio pensare a noi cosa possiamo fare noi e cosa abbiamo fatto noi stasera però l'arbitro fa il suo dobbiamo rispettarlo però sicuramente c'è un po' di rammarico Studio Buonasera ben trovato Nermin complimenti per il gol davvero di pregevole fattura ci stai prendendo davvero gusto quest'anno ti ha definito anche alla vigilia di questa gara a Mr. Matteo Andreoletti come un tuttocampista giochi bene tra le linee giochi bene da interno di centrocampo esterno alto esterno basso ma dove ti piace giocare di più? è una domanda difficile secondo me ultimamente mi sto trovando molto bene come trequartista cercherò di fare quello che chiede il mister cercherò di migliorare in quel ruolo perché non l'ho mai fatto prima però prendo ogni allenamento per migliorare per fare quello che ci richiede il mister poi sicuramente nel centrocampo riesco a coprire tanti ruoli ho giocato sia da quinto che in centrocampo da due in centrocampo da tre però ultimamente mi piace molto il ruolo come trequartista però io sono a disposizione al mister ovunque mi metto giustamente mi diresti quasi l'importante è giocare Billy Nuzio Lillo per te ciao Nermin ti faccio i complimenti perché davvero questa sera non perché sei qui l'abbiamo detto in inizio della smissione sei stato in assoluto il migliore in campo una prestazione eccellente devo dirti che in questo ruolo di trequartista secondo me anche in delle gare in cui magari sul piano della costruzione avevi reso meno però eri stato importante dal punto di vista tattico nella fase di copertura dando una mano ai centrocampisti nelle ultime partite stai crescendo sempre più è una questione anche di condizione psicologica cioè il fatto che adesso cominci a giocare meglio ti senti più sicuro e quindi rischi anche dei colpi che magari prima non rischiavi ma io penso che un giocatore piano piano prende più confidenza quando è un ruolo nuovo di sicuro però come ho detto prima cercherò di prendere ogni allenamento come una possibilità di migliorare in quel ruolo sto cercando di fare quello che ci richiede il mister ma poi come ho detto prima per me è importante di giocare di dare una mano alla squadra poi dove sarà lo deciderà il mister però ultimamente mi sento più sciolto sicuramente ho preso più confidenza in quel ruolo e si vede che paga però c'è sempre questo ramarico che non abbiamo portato via tre punti però ci lavoriamo in settimana Sonia non farà così tanto però io lo vedo solo come un bene cerco di sfruttare le mie caratteristiche ce l'ho quello dentro e cercherò di dare una mano alla squadra ovunque sia in campo perfetto grazie ancora complimenti grazie mille buonasera ringraziamo Karic autore della seconda rete la prima siglata da Marotte abbiamo pronto il Kawakibi bene bene andiamo tra poco e ritorniamo nuovamente da Sonia con Amsel Kawakibi idee chiare quasi l'importante al di là delle battute è giocare lo sta facendo bene è un uomo fondamentale sta diventando davvero imprescindibile no Billy per questo bene ma sai credo che l'azione della rete è realizzata racchiuda questa evoluzione del calciatore perché se ricordi parecchie volte in passato aveva l'opportunità di tirare e non tirava perché gli mancava quella sicurezza che sta acquisendo man mano e oggi il gol di pregevole fattura davvero quindi è dimostrazione che anche l'autostima è cresciuta l'adattamento alla nuova posizione e quindi Karic sta diventando uno dei punti di forza di questa squadra prima di ritornare allo stadio Vigorito da Sonia con il Kawakibi ha fatto anche un gran bel gol un gol di pregevole fattura parlavamo prima di Ciufferri ma tra l'altro era anche defilato e ha battuto il portiere esattamente ha battuto il portiere tra l'altro in una posizione molto molto difficile scaricando tutta la sua rabbia e la sua potenza no? Sì ma soprattutto guarda io nelle ultime partite osservo attentamente i suoi movimenti in campo quando nella fase difensiva al di là del pallone lui è molto utile perché quando scivola all'indietro consente ai due centrocampisti di allargarsi dall'altra parte e quindi di creare quasi a volte un filtro a tre a centrocampo e questo credo che sia anche uno dei motivi delle prestazioni che possono fare anche se oggi magari Agazzi e Talia sono stati un po' sottotono rispetto alle altre gare però credo che il segreto delle loro prestazioni dipenda anche dall'equilibrio che dà Caric facendo questa sorta di pendolo avanti e indietro Ritorniamo nuovamente allo stadio Vigorito abbiamo in compagnia di Sonia il nostro Hamza e il Kawakibi a voi Eh sì con Caric abbiamo parlato soprattutto della fase più propositiva che poi ha portato anche lui al gol con te parliamo un po' più dell'aspetto difensivo ecco cosa è mancato due volte in vantaggio prendere quei due gol sicuramente prudezze le ha definite Andrioletti però soprattutto il secondo forse vi siete allungati troppo Sì oggi diciamo abbiamo concesso qualche occasione da gol in più agli avversari rispetto alle ultime partite i gol li voglio rivedere bene sono stati sicuramente molto bravi loro però penso che potevamo fare fare meglio li rivedremo sicuramente domani analizzeremo gli errori fatti da noi e cercheremo di sfruttare meglio le occasioni per non sbagliare come oggi studio Buonasera ben trovato Hamza è un campionato comunque livellato verso l'alto ci sono cinque squadre nel giro di cinque punti si può perdere davvero si può vincere contro chiunque stasera hai la sensazione che questi siano due punti persi la miglior medicina è quella di ritornare subito in campo perché domenica a Monopoli chiaramente il Benevento atteso da un'altra battaglia calcistica o sbaglio Sì sicuramente c'è grande rammarico per la partita di oggi c'è da dire che verso la fine abbiamo pure rischiato di perderla ma è la voglia di vincere tutte le partite che ci porta a rischiare qualcosa in più però come dici tu sicuramente il tornare in campo domenica ci aiuta sappiamo quello che vogliamo sappiamo che è un campionato difficile dove tutte le domeniche sia noi che le altre squadre possono vincere o perdere con tutti e quindi dobbiamo cancellare subito questo pareggio e pensare a domenica dove dobbiamo tornare a fare quello che sappiamo e tornare alla vittoria il prima possibile Billi Nuzzolino Buonasera Amsa tu parlavi del finale credo che nel finale ci sia l'aspetto positivo che è dato dalla vostra grande voglia di voler vincere la partita però come tu stesso hai sottolineato tutto questo vi ha esposto a dei contropiedi che vi potevano far perdere la partita quindi alla fine la considerazione questo finale può essere un'esperienza utile per il futuro per non ricommettere questi errori per voler vincere a tutti i costi la partita sì sicuramente ci deve servire per maturare come squadra dobbiamo capire che a volte le partite quando non si possono vincere sicuramente non si possono perdere soprattutto in casa ci siamo fatti prendere un po' dalla foga di voler vincere forse un po' perché eravamo in casa forse perché sapevamo di poter vincere e quindi abbiamo rischiato un po' di più ma purtroppo quando vuoi vincere qualcosa devi concedere noi abbiamo deciso di concedere qualcosa forse sbagliando ma la nostra forza è quella di rischiare di provare a vincere tutte le partite quindi penso che sia un bene questa voglia che abbiamo e continueremo a farlo crescendo e maturando capendo che quando non possiamo vincere sicuramente non dobbiamo perdere Bracciato destro nella fase difensiva però non hai dimenticato la tua natura di esterno perché ti piace spingere parecchio quando puoi sì mi piace è un ruolo che mi piace molto perché mi permette di attaccare quando c'è lo spazio soprattutto oggi sull'1 a 1 anche sul 2 a 2 quando c'era lo spazio mi piace andare anche perché arrivo da dietro quindi a volte spesso non mi seguono quindi è un ruolo che mi piace molto mi piace difendere a 3 quando posso mi piace attaccare perché l'ho sempre fatto quindi so che devo migliorare in fase offensiva però è un ruolo che mi piace molto grazie e in bocca al lupo per la prossima grazie a voi crepi il lupo bene ringraziamo il Kawakibi a te Pasquale grazie grazie a Damsel Kawakibi tra poco ritorneremo da Sonia per i commenti e i saluti finale con con lei Billy bravo il Kawakibi sia come bracciato di destra come si attolineava benissimo Sonia sia come esterno esterno alto no? da queste interviste post partite ci sono due aspetti molto positivi da sottolineare uno Andreoletti sulla questione degli arbitri ha detto io sono pienamente d'accordo a me credo che lamentarsi sugli arbitri è sbilente ma è inutile perché tanto alla fine tu puoi incidere soltanto su te stesso migliorando quelli che sono i tuoi limiti e quindi chiaramente su quello puoi operare è una mentalità da vincente non da perdente e anche quello che diceva il Kawakibi adesso quando diceva la voglia di voler vincere perché noi vogliamo vincere tutte le partite anche da queste parole emerge questa mentalità vincente che questa squadra ha nel corso di questa stagione esattamente il contrario di quella che era la squadra dello scorso anno al di là dei limiti al di là della prestazione non certo ottimale di questa sera però se andiamo ad analizzare questi sono degli aspetti che vanno come dire rafforzati perché questa squadra ha la mentalità vincente lo dimostra anche in questi aspetti che possono apparentemente sembrare secondari coinvolgo per l'ultima volta Sonia Lantella vengo da te Sonia per i commenti finali ringraziando la parte tecnica come sempre Fabrizio Anglisiani ricordiamo che eccezionalmente per questa settimana 8 gol andrà in onda domani martedì alle 21 si analizzerà chiaramente in tutte le salse la sfida tra Benevento e Giuliano ci si proietterà alla sfida di domenica alle 16 e 15 contro il Monopole a te Un punto che fa male che dà rabbia perché come abbiamo detto per ben due volte in vantaggio il Benevento è chiaro che sarebbero stati tre punti fondamentali per quella che è una lotta dove sappiamo benissimo che il Benevento ha un grande obiettivo quello di tornare in Serie B quest'anno le campane sono protagoniste bisognerà fare grande attenzione non bisognerà mollare perché è evidente insomma che le altre non aspettano la Juve Stabia ha pareggiato in casa poteva essere una grande occasione rispetto invece all'Avellino che si sta confermando una reale antagonista dei giallorossi quindi sicuramente un pari amaro ma bisognerà ripartire da questo punto lo affronteremo lo analizzeremo così come tutte quelle che sono state le dinamiche che hanno accompagnato questa notturna al Vigorito lo faremo domani come dicevi tu Pasquale ore 21 torna 8 gol eccezionalmente di martedì sempre quando il Benevento giocherà di lunedì anche perché capiterà molto molto spesso per cui ecco a grande richiesta effettivamente insomma si sentiva la mancanza troppe volte di 8 gol per cui insomma abbiamo voluto esserci anche noi di martedì e quindi tanti ospiti analisi guarderemo anche alle altre al cammino delle altre e poi chiaramente affronteremo questa prossima sfida in casa del Monopoli sicuramente come diceva Andrioletti da non sottovalutare ma con la consapezza dell'organico del Benevento delle capacità del Benevento e quindi sicuramente spingere di più attraverso quell'equilibrio che una squadra che ha diciamo cambi che ha sostituzioni importanti giocatori importanti in tutti i reparti deve attuare in ogni partita ed è tutto dal Ciro Vigorito vi restituisco la linea grazie grazie alla nostra Sonia Lantella che ritroveremo eccezionalmente domani con 8 gol grazie a Fabrizio Anglisani ultima reclama per noi poi gran finale di Offside Benevento a tra poco Rush finale di Offside Benevento il Benevento pareggia 2 a 2 in casa contro il Giuliano resta a meno 2 dalla Juve Stabia non riuscendo a sfruttare il pareggio interno delle Vespe a reti bianche contro il Foggia Benevento raggiunto quota 26 dall'Avellino andiamo a dare uno sguardo a quello che è il cammino delle tre campane l'abbiamo definito anche un po' come la volata del girone C C come campania grazie alle grafiche del nostro Giuseppe Andrita le tre anzi le quattro campane perché non dimentichiamo che la Casertana ha solo cinque lunghezze di distanza dalla Juve Stabia tre dalla coppia formata da Benevento Avellino e occhio a questo Picerno che abbiamo visto anche all'opera al Vigorito Billi nel mese di dicembre potrebbero delinearsi potrebbero anzi delinearsi scenari importanti complice anche l'incrocio tra Benevento Avellino e Juve Stabia Benevento che andrà prima a Castellammare il 3 dicembre poi il 10 al Vigorito nel super derby contro l'Avellino di pazienza sì credo che queste ultime sei giornate possono alla fine del giorno di andato si potrà avere un'idea davvero di quelle che sono le squadre candidate alla vittoria finale c'è da dire che la Juve Stabia al di là del pareggio interno oggi col Foggia è una squadra che ha una grossa capacità sul piano difensivo una squadra che subisce poco per cui abbiamo visto in questo campionato che è importante non prendere gol del resto il Benevento se si trova a 26 punti pur non avendo segnati tanti gol e proprio per la sua capacità sul piano difensivo per i tanti clean sheet messi assieme in verde le gare in casa in rosso invece le gare in trasferta parlavi dei clean sheet perdonati sì 8 su 13 gare insomma a dimostrazione che il Benevento sei lì pur non segnando tanti gol ma il fatto che non prendi gol è come la Juve Stabia che si ritrova a quel punto là forse tra le squadre di vertice è l'Avellino quella che riesce ad avere una maggiore prolificità sul piano offensivo devo dirti che le due gare fondamentali sono quelle lì la trasferta di Castellammare di Stabia è inutile girarci attorno e poi il derby con l'Avellino perché sicuramente sul piano delle rose il Benevento e l'Avellino in questo momento credo che siano le rose più attrezzate e più forti chiaramente la Juve Stabia è lì potrebbe anche rimanere lì non ha tanti cambi e si sa che alla lunga tutto questo potrebbe pesare però non dimentichiamo non dimentichiamo che però a gennaio con il mercato cambiano tante cose anche la Juve Stabia potrebbe fare quegli acquisti che gli consentono di allargare la rosa e quindi di rimanere nelle prime posizioni e lottare fino alla fine insomma è un campionato che è tutto da giocare è inutile acquistiare e fare previsioni anche perché poi capita il passo falso come è capitato al Benevento oggi che addirittura poteva perdere in casa col Giuliano e non ci sarebbe stato nulla da dire alla luce di quanto visto nei 90 minuti come capita l'Avellino che alla fine pareggia delle partite che magari si dava per scontate rischiando di perderle si dava per scontate che avrebbe vinto ti riferivi a quella chiaramente in casa col Francavilla sì la settimana scorsa dove i Lupi erano stati costretti a dimontare assolutamente sì quattordicesima giornata del Girono EC del campionato di Sereci andiamo a vedere come sempre con l'aiuto e l'ausilio delle grafiche queste le gare in programma Billy Foggia Latina Messina Juve Stabia Crotone Potenza Giuliano Catania Picerno Avellino Picerno Avellino è una sfida importante Sorrento Monopoli Turris Cerignola Virtus Francavilla Brindisi un derby pugliese questo è Benevento Monterosi ci siamo già proiettati all'altra quindi la quindicesima in ogni caso non so se riusciremo anche adesso a correggere la grafica c'è il derby tra Avellino e Giuliano e Benevento va a Monopoli quella era la quindicesima quindi Avellino ha due gare abbastanza impegnative assolutamente sì quindi al di là di quello e quindi chiediamo scusa ma quella era la grafica della quindicesima appunto giornata guarda qui appunto con le prossime gare no? la Juve Stabia ha il Sorrento il Lavellino ha il Giuliano il Sorrento in ripresa sì il Sorrento in ripresa caricato anche diciamo da questo pari Giuliano che secondo me potrebbe dare del filo da torcere anche al Lavellino e secondo me il Giuliano Di Bertotto visto stasera darà del filo da torcere a tutte le squadre ricordiamolo veniva da due vittorie consecutive arrivava al Vigorito Benevento che andrà a Monopoli Casertana Grotone anche una sfida interessante ma anche soprattutto Latina Picerno Picerno che affronta il Latina insomma che è una squadra che sta dando filo da torcere a tutti insomma si è ripreso dopo aver avuto un piccolo momento di calo sicuramente insomma un campionato interessante che nelle prossime due giornate potrà già delineare prima dei due scontri fatidici parliamoci parliamoci chiaro chiaramente il lunedì 27 nuovo Monday Night per il Benevento perché dicevo nuovo Monday Night perché arriverà nuovamente il di lunedì la sfida in quel caso sarà contro il Monterosi mentre Billy dobbiamo aspettarci un'altra gara maschia un'altra gara aperta ad ogni risultato ma piena di insidie quella di domenica alle 16.15 contro il Monopoli sicuramente insomma come diceva Andrea Letti prima non va sottovalutata nessuna squadra oggi se volevamo giudicare il Giuliano alla luce dei primi 10 minuti di un quarto d'ora io leggevo un po' di commenti nei vari gruppi sui social dice Giuliano veramente scarso poi abbiamo visto insomma che poi il Giuliano addirittura ha rischiato di portare via bottino pieno dal vigorito non va sottovalutata nessuna partita la Serie C è un po' come la Serie B noi siamo stati abituati negli ultimi anni a vedere delle sorprese anche quest'anno insomma sono tante all'ordine del giorno le sorprese nel campionato cadetto la Serie C è la stessa cosa non puoi sottovalutare nessun avversario e noi chiaramente seguiremo il post partita tra Monopoli e Benevento l'appuntamento è domenica alle 18.15 per il post gara di Monopoli e Benevento che chiaramente seguiremo con la voce dei protagonisti da Monopoli con la nostra Sonia Lantella e chiaramente con il nostro Bellinuzio lì nel studio grazie come sempre Billy grazie a te Pasquale un saluto delle spettatori continuate a seguirci sui nostri canali social Facebook Instagram sul nostro sito 8channel.tv e 8pagine.it grazie alla regia di Paolo Romano grazie a quanti ci hanno seguito l'appuntamento con Offside Benevento è per domenica alle 18.15 per il post gara di Monopoli Benevento buona serata grazie a tutti Grazie a tutti.